Passiamo alla prima domanda, chi sono i due Laslamas? Coppia di clown dottori, volontari presso l'associazione Verani Casani. Esatto, dove si recheranno quest'estate per la missione del sorriso? Qui abbiamo rischio signorina, abbiamo 400.000 sorrisi, veda lei se ha coraggio o se ha paura. E quando è? Atandau. Esatto, Atandau, un piccolo paesino disperso sulle Ande a 3.000 metri vicino al vulcano Ciboraso, e qui saliamo di 5.000 sorrisi. Con che associazione collaboreranno signorina? Operazione Mato Grosso. Attenzione, domanda finale. Attenzione, attenzione, cosa faranno i due Laslamas il prossimo agosto? Insegneranno tecniche di flogherie ai ragazzi locali, faranno aspettati di strada, e doneranno sorrisi a chi ne ha più bisogno. Esatto, signore e signore, abbiamo il campione, la campionessa.